Questa volta lo zuzzone di turno è stato beccato e per lui multa salata, anzi salatissima. Eccolo l'incivile, un paternese che a bordo della sua auto ieri mattina ha scaricato diversi sacchi di rifiuti sulla rotonda ad incrocio tra via Ballatelle e la provinciale 135. Le telecamere installate dal comune di Paternò lo hanno beccato e per lui, come detto, multa salata per aver trasportato e abbandonato i rifiuti. A segnalare l'abbandono al comune sono stati i residenti della zona, con il nucleo tutela ambientale della Polizia Municipale Paternese che si è subito messo in moto. Il comune aveva pulito appena una settimana fa la rotonda, dove gli incivili avevano dato vita ad una discarica a cielo aperto ed ecco che lo zuzzone di turno si era ripresentato. L'abbandono di rifiuti gli costerà caro, visto che è stato multato anche per essere alla guida di un'auto non coperta da assicurazione. Sanzionate anche alcuni automobilisti questa mattina per infrazioni al codice della strada. L'attività di controllo non si è mai fermata, per questo ringrazio il nucleo di tutela ambientale che giornalmente effettua i controlli assieme agli operatori dell'addaste. Ieri c'è stato un cittadino, che possiamo dire sozzone, che ha depositato la rotonda di via Balatelle. È stato ripreso dalle nostre telecamere, è stato multato, è stato sanzionato. Inoltre, oggi in ulteriori controlli, sempre nel sito rotonda di via Balatelle, sono state elevate 10 contravvenzioni per mancanza di rispetto del codice della strada, perché alcuni cittadini tagliavano la rotatoia. Abbiamo in atto anche altri controlli da parte della ditta che fa il servizio di raccolti rifiuti a Paternò sulle attività commerciali. Ieri si sono concentrati su tutte le attività commerciali che ancora stendono a differenziare. Abbiamo dato un altro ultimatum, dopodiché non ci fermeremo, saranno tutte verbalizzate, anche perché col problema dell'indifferenziato abbiamo anche delle percentuali minimi da poter conferire, quindi dobbiamo migliorare il rifiuto, sia per poter conferire, sia per poter arrivare al 65%, sia per arrivare alle premialità. Ripeto che le premialità non sono solo per il Comune, per l'arrivo del 65%, ma sono premialità che verranno suddivise in bollettazione, in bolletta quindi troveranno uno sgravio, ma se non arriviamo al 65% non avremo nessuna premialità con l'aggravio di un costo superiore per non aver raggiunto il 65%. Quindi io ribadisco di nuovo a tutti i cittadini di aiutarci in questo arrivo del 65%. Assessore, poi ci sono le due note dolenti dello scerbamento e dello spazzamento, che cosa si sta facendo? Sì, abbiamo aumentato lo scerbamento in città, come vedete dai posti che pubblichiamo sulla nostra pagina ufficiale, la ditta che effettua lo scerbamento ha aumentato l'intensità dello scerbamento, anche ha aumentato l'intensità della pulizia delle cadetoie, ieri si è stato fatto un intervento di scerbamento in via Fonte Maimonide, oggi è stato completato con la pulizia delle cadetoie. Inoltre abbiamo appaltato una gara, una ditta esterna, per lo scerbamento di tutte le altre aree, aree libere e tutte le altre zone che sono nel comune di Paternò.